Siamo con Don Angelo Tabasco che è responsabile della pastorale sociale della Diocesi di Vallo della Lucania con la delega anche alla cultura e salvaguardia del creato. Abbiamo un evento importante che la nostra diocesi ha organizzato per sabato 19 ottobre, quindi la giornata per la salvaguardia del creato. La chiesa ogni anno nel primo settembre vive una giornata di preghiera per la custodia del creato, però dal primo settembre fino al 4 di ottobre, possiamo dire nel mese di ottobre, si celebra il cosiddetto tempo del creato e in questo tempo ogni diocesi può organizzarsi per vivere un momento di riflessione e di preghiera proprio per il creato. Noi come Diocesi di Vallo della Lucania quest'anno abbiamo pensato di vivere questo momento sabato 19 ottobre al mattino con un momento di riflessione e poi un momento di preghiera ecumenica. Ecumenica perché lo vivremo insieme con un sacerdote ortodosso rumeno che è presente sul nostro territorio della provincia di Salerno proprio per testimoniare che questa giornata di preghiera per il creato è iniziata con la chiesa ortodossa ma poi è stata anche sposata fatta propria dalla chiesa cattolica e quindi ecco che insieme cattolici ortodossi ogni anno si ritrovano proprio per vivere questi momenti dedicati alla custodia del creato. Il tema della giornata di quest'anno è quante sono le tue opere signore questo preso dal Salmo 104 e però ecco già come sottotitolo coltivare la biodiversità. Questa iniziativa è stata fatta proprio in stretta collaborazione con il parco tanto che il primo momento si svolgerà nella sede del parco e il secondo in cattedrale sempre a Vallo della Lucania ma l'altra bella novità oltre che naturalmente la collaborazione ecumenica è quella che a questo incontro sono invitate a partecipare tutte le sigle ambientaliste che operano nel nostro territorio quindi da Lega Ambiente, WWF, Fare Ambiente, Lipo e quant'altro cioè tutti insieme per ragionare sulla specialità che il nostro territorio ha e sull'impegno di ciascuno. Sì la nostra chiesa ecco attraverso queste iniziative vuole essere aperta a tutte le realtà che sono impegnate oggi alla salvaguardia e alla custodia del creato anche per diciamo iniziare un dialogo. Vi aspetto tutti sabato mattina 19 ottobre.